Quel terzo set lì che eravamo 20 a 15, certo che noi lo sappiamo che hanno dei giocatori che hanno delle qualità molto importanti, ci siamo fatti recuperare 6 punti lì in maniera un pochino da ingenui, quindi dobbiamo tranquillamente come abbiamo fatto dopo gara 1 risentare tutto, fra tre giorni si gioca di nuovo e saremo pronti per gara 3. Gara 1 vi aveva un po' illuso che potesse essere più semplice, ma può darsi che adesso abbiano illuso loro, no?